I giochi sono quasi fatti Si parte decisiva questa partita per il passaggio del turno C'è spazio per andare I got Il primo 3 in porta 1-0 Marcus Rashford Nel momento migliore dello Young Boys Perché fino adesso lo avevamo fatto veramente cagare Bene così lo sblocchiamo il primo 3 in porta Si riparte dunque con lo United avanti Un fallo sciocco che concede una posizione davvero invitante Che brivido Il Young Boys vicino al pareggio Sanchez Allora Young Boys Il pareggio Ho il minuto 33 E non può annelare questo gol perché fino adesso Non è che abbia giocato così bene Da neanche meritare il vantaggio E quello a casa si stia Script Che è a favore Svizzeri Prova ad aprire la scatola difensiva avversario Vete provata Mata Grande freddezza Dello spagnolo Subito 2-1 Partita che deve andare a riazione Alla faccia dello script E speriamo ci riservi altre sorprese in questa seconda frazione di gara E la palla Fuori Marcus Lassor che cosa ti sei mangiato Era un gol già fatto E avevo già visto dentro Stavo già esultando In tribuna gridava già il gol Eh io si Qua la laterale per noi Con le mani Polpo Martial Occhio a Sanchez Occhio a Sanchez Troie occasioni Inizio a Inizio a secondo tempo Cross Molto bello Salvataggio Quasi sulla linea Matic Non riusciamo a tirare Primo tempo incoraggiante Il suo giocato su livelli interessanti Occhio al pallone filtrante Sanchez fuori Che grande occasione Che una lezione è veramente rossa C'è bisogno di energia Di forze fresche Credo sia il momento giusto questo Si avvicina l'area E arriva Proprio lui Aslingard Appena entrato 3-1 E arriva 4-1 Non so chi ha segnato Ma va bene così Dunque si va Agli ottavi di finale Si andrà Vediamo se Anche con i primi In base alla partita Fra Juve e Valencia 4-1 Per me Adesso Andiamo a giocare La parte Spagna Qualificazione Che era Nell'area